Sono le 6 e 20 del mattino quando Luca Vanneschi lascia il carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni esce intorno alle 7. I due aretini in carcere da circa due settimane potranno uscire durante il giorno dal penitenziario di Arezzo in base a quanto disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. I due sono stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni della studentessa genovese Martina Rossi, morta nel 2011 a Palma de Mallorca precipitando dal balcone dell'hotel in cui si trovava in vacanza. Albertoni e Vanneschi lavoreranno entrambi con i genitori per poi rientrare a sera nel carcere di Arezzo. Loro insieme in libertà, noi condannati all'ergastolo, commentano i genitori della studentessa genovese Martina non ce la ridà nessuno.